Se vuoi sapere come mai il cielo è blu, ci sono i Pampers Se non sai perché lei non ti ama più, ci sono i Pampers Qualunque dubbio avrai, non perdere tempo, non ho già mai Perché per questo ci sono i Pampers Ciao! Ciao! Bentornati in Ci sono i Pampers, non me l'aspettavate? Maledetti! Stiamo in un posto nuovo, tanto ci sono i Pampers Ormai sembra una rasseglia di divani, ma giuro che non facciamo pubblicità ai divani Mio papà lavora da divani ai divani Ah, è sua mamma che lavora lampioni e lampioni No! Oddio! Che saccazza chimica! Questo cazzo Sabrina No, vogliamo dire, non è Sabrina la fidanzata di Angelo D'Uno Ma è soltanto un orso È Sabrino È Sabrino, lui è Yoda, fratello orso Comunque sì, abbiamo appena aperto un account Twitter Quindi pian piano stiamo crescendo anche lì E quindi le domande d'ora in poi le facciamo, le facciamo tutte su Twitter Cos'altro si può dire? Se non iniziare con le vostre sagaci richieste Finalmente l'account anche su Twitter, sì! Visto? Abbiamo un account su Twitter È già detto che basta Quali sono le vostre serie TV preferite? Allora, io amavo molto Walking Dead E poi hanno iniziato a fare puntate di 50 minuti dove succede niente Per 50 minuti quella puntata dopo pure, quella dopo pure Quindi ha smesso di piacermi Però apprezzo molto American Horror Story È fatta molto bene La mia serie TV preferite è la Samsung LED LM In assoluto la miglior serie di televisori che hanno fatto Non serie TV di TV Serie TV Serie Eh, ne ho fatto un sacco di modelli Guarderò tutte le puntate Se mio padre e mia madre fossero fratelli Sarai mio cugino? Secondo me sono fratelli Chi di voi due potrebbe sostituire Zayn Malik Nei One Direction Zayn Malik Eh, non so come si pronuncia Vabbè Zayan Zayan Zayin Zayin Vabbè, Mirko Chi di voi due potrebbe sostituire Mirko negli One Direction? Crazy, crazy, crazy Io, io Perché la fila davanti alla toilette Toilette si dice, no? Sì Ah Perché la fila davanti alla toilette femminile è sempre più lunga? Beh, perché noi maschi non lo sappiamo Perché i nostri bagni sono normali Ma in realtà nel bagno delle donne c'è una figlia Lady Zara Pampers Cagate mi scrive Le vostre paure più grandi Beh, la mia paura più grande è senz'altro quella di andare al cesso E cagare questo account Twitter Ma tu intendi proprio Ibyte o lui? Beh, lui, mica Che dilatazione devo avere? E beh, ci sei quasi No Abrino Abrino C'è anche uno stregatto Ecco, togli Sabrina Perché non c'è mai un punto 3? Primo, perché dipende da quanti punti vuoi dire Non sempre sono 3 Due, non è vero che non c'è mai un punto 3? Se dovreste decidere Doveste! Doveste! Comunque Se doveste decidere fra sesso gratuito 24 ore su 24 50 euro all'ora per testare dei nuovi videogiochi Che cosa scegliereste? Beh, è difficile come... Cosa sceglieresti? Allora, io testerei i videogiochi per 50 euro all'ora Quindi diventerei molto ricco probabilmente E 25 euro li darei a una che mi tiene compagnia Mentre testo i videogiochi, insomma Perché i prof mettono le verifiche alla prima ora? Beh, perché alla prima ora sei troppo rincoglionito Non riesce a ribellarti Populista peracino Populista Come album di Fedez Perché nei film horror sono tutti scemi Sembra vogliono andare a morire? Ma no! Cioè, vanno a morire ma per un motivo che Boh, chiunque sarebbe finito lì C'è un rumore uno con una motosega Vado a dare un'occhiata Tutto a posto È l'idraulico Perché il lato della strada è chiamato ciglio? Perché dove vai a finire si chiudi il ciglio Andrea, sei un polistrumentista? Quanti strumenti suoni? E tu, Pefa? Bene, polistrumentista più o meno Nel senso mi piace Suono la batteria Strimpello la chitarra Strimpellicchio il pianoforte Vabbè Se vogliamo essere generosi Sì, sono un polistrumentista No, io sono più un policlinico Ah, la fregna Sì, sì, sì Me la dà Sì, la dà Un bel giorno ti accorgi Se insisti Sì, la dà Sì, che te la dà Puoi chiamare La fregna Anche tu Sì, la dà Sì, che te la dà Basta poco così Sì, che te la dà Qualche centimetro in più Sì, che te la dà E il perché Non finiscono più E una tro Ci sono i Pampers Questo era Ci sono i Pampers Twitter Edition Ci vediamo Nella prossima puntata Continuate a farci Le domande Random Noi comunque Ogni tanto controlliamo Sull'hashtag CSP Se ci sono delle domande E Scusa Un po' di tosse Respiro così Salutiamo Tutti quelli Che ci guardano Da casa Ciao E Basta E vi vogliamo Sempre bene Se vi è piaciuto Questo video Mettete un mi piace Iscrivetevi al canale Seguiteci su Twitter Facebook Youtube Instagram E Per strada Per strada Il nuovo social Tu vedi uno E lo stalkerizzo Invece Lanciamo nei top trend Di Twitter L'hashtag Per strada Il nuovo social Dove seguirci Esatto Ciao Ciao